Oggi è l'8 luglio 2018 e ci troviamo nel dietro le quinte del trofeo nazionale Formula Wisp di pattinaggio artistico a rotelle per parlare con la signora Cinzia Forghieri, responsabile dell'organizzazione, per raccontarci ancora le difficoltà e le soddisfazioni di organizzare una gara di questo genere. Sicuramente difficoltà vere e proprie non ne abbiamo incontrate anche perché abbiamo avuto la collaborazione del comune di Scanno, abbiamo avuto la collaborazione di tante persone e adesso sarebbe difficile elencarle tutte, gli esercizi, gli albergatori, i ristoranti, tutti in qualche modo si sono sforzati di rendere questo periodo di soggiorno il migliore possibile. Soddisfazioni tante perché quando vediamo che gli atleti possono fare i loro programmi in una struttura ottimale, dalle caratteristiche tecniche ottimali e quindi poter veramente rendere al meglio il loro esercizio, quando vediamo che i genitori oltre all'aspetto gara possono anche trascorrere delle giornate di serenità, Scanno veramente offre tantissimo in questo senso, un borgo bello, c'è un lago meraviglioso. Quando quindi all'evento spottivo si può unire un aspetto turistico, la conoscenza di un territorio molto bello, l'entusiasmo che sentiamo in questo momento sugli spalti, noi organizzatori nonostante la grande fatica non possiamo che essere soddisfatti al massimo. Grazie Cinzia, ci vediamo nei prossimi giorni, grazie a tutti.